Dal prossimo 15 settembre tornerà come di consueto l'appuntamento con Verissimo, il rotocalco di Canale 5 condotto da Silvia Toffanino, dove i personaggi dello spettacolo e non solo si sottopongono alle domande della conduttrice per soddisfare la curiosità dei telespettatori. Manca ancora qualche giorno alla prima puntata ma grazie al settimanale TV Sorrisi e Canzoni si sa già chi siederà per primo sulla poltrona delle interviste Francesco Totti. Racconteremo la sua vita da calciatore, dirigente, padre e marito. Perché Francesco è un campione non solo sul campo ma anche nella vita, ha svelato la Toffanina la rivista. Dopo l'esperienza all'intervista di Maurizio Costanzo, l'ex capitano della Roma torna in televisione ancora una volta per raccontarsi tra carriera e vita privata.